Ciao a tutti ragazzi bentornati da Carmi Special, siamo con la serie sui marcatori improbabili, sicuri ed ex come sempre vi esorto a lasciare un bel like come avete fatto in tutta questa stagione infatti l'abbiamo proseguita questa serie per ben 35 giornate come sempre vi ricordo anche di condividere il video se vi va e se qualcuno di voi non è ancora iscritto al canale è il benvenuto in questa bella community detto questo vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball l'applicazione che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio, utile anche per il fan da calcio per le probabili formazioni e non solo, trovate qua sotto il link per scaricarla gratuitamente inoltre per partecipare appunto a questa serie sui marcatori ignoranti, improbabili basta scrivere qua sotto nei commenti un difensore, un giocatore che appunto magari non ha segnato in questa stagione un centrocampista che non ha ancora segnato, quindi un po' un nome ignorante ecco che potrebbe effettivamente segnare in questa giornata se volete potete aggiungere anche un nome sicuro di quelli abbastanza probabili che portino il gol io ne ho scelti alcuni un po' strani e non proprio nomi scontati e poi ovviamente anche un ex magari di questa giornata cioè un giocatore che affronta una sua ex squadra detto questo andiamo a vedere che nomi avete indovinato la scorsa giornata se il video vi risulterà magari lungo, avete poco tempo a disposizione velocizzatelo con appunto il moltiplicatore, non è un problema dipende dalla vostra pazienza ragazzi detto questo andiamo a vedere appunto cosa avete peccato avevate indovinato se non sbaglio Deron e Soriano però essendo non solo centrocampisti ma soprattutto contro rispettivamente Empoli e Udinese se non sbaglio e in casa non mi sembravano talmente ignoranti da doverli inserire comunque faccio i complimenti a coloro che l'hanno indovinato lo stesso ho inserito però due difensori il primo che avete indovinato appunto è Fazio l'hanno beccato Giuseppe Sollazzo, Nicolo Buttu e Bolo Como complimenti ragazzi Fazio abbastanza ignorante anche se ne ha già segnati diversi di gol perché appunto essendo alto di testa in area avversaria è sempre pericoloso però comunque un difensore non è mai semplice che porti il gol uno che ne ha portato invece abbastanza ma sempre difensore è Kolarov segnato anche nell'ultima giornata torna al bonus dopo un bel po' di giornate dove non ha portato buoni voti l'hanno beccato Donny03 e Leandro Savoca quindi complimenti a voi due ragazzi detto questo andiamo a vedere che nomi ho scelto per questa giornata partiamo dagli improbabili e come primo nome ragazzi ho inserito Demiral del Sassuolo ha già segnato due golle tre se contiamo quello annullato la scorsa giornata e certe volte io non dico che credo nel karma ma nel carmi per fare la battuta un po' banale però effettivamente ragazzi ogni tanto è capitato se non sbagliate esempio da Cerbi che segnò un gol e gli fu annullato e poi la giornata successiva risegnò quindi chissà che proprio questo giocatore che comunque i bonus li sta trovando non trovi un più tre anche in questa giornata tra l'altro i due golle non lo ricordavo ma li ha fatti nella stessa partita quindi una doppietta da Demiral clamorosa clamorosa comunque vedremo ragazzi comunque sta facendo anche buone prestazioni chissà che non trovi il gol proprio dopo la giornata successiva al gol annullato contro la Fiorentina io l'ho voluto inserire perché comunque è abbastanza pericoloso in area avversaria andiamo a vedere invece un altro nome un centrocampista ragazzi anzi prima passiamo a Biraghi Biraghi della Fiorentina ragazzi è contro Lempoli che non è una delle difese più solide ecco però Lempoli credo farà una gran partita perché è aggrappata a poche speranze comunque di salvezza quindi deve cercare di portare a casa tre punti Biraghi ragazzi l'ho inserito perché è abile anche con dei calci di punizione e soprattutto è uno dei pochi terzini che si inserisce anche in area per i calci d'angolo mentre di solito entrano i centrali i terzini stanno un po' dietro in caso di ripartenza e Biraghi invece sta anche in area avversaria per appunto punizioni e calci d'angolo quindi chissà appunto che non trovi il gol e non segna da un bel po' ragazzi mamma mia dalla settima giornata però ha fatto diversi assist durante la stagione quindi ci può stare da me come marcatore di questa giornata ovviamente ignorante ragazzi perché comunque un difensore un terzino e non segna da una vita però ragazzi l'ho voluto inserire perché comunque l'avversario volendo può concedere diverse chance quindi ditemi cosa ne pensate l'altro nome appunto come vi dicevo è un centrocampista l'avevo già inserito in passato in questa serie e parlo di Lazzari Manuel Lazzari ragazzi uno dei giocatori più affidabili dal punto di vista fantacalcistico a livello di valutazioni questa stagione infatti ha una media voto media voto del 6,36 e fantamedia del 6,52 che è davvero buona se consideriamo che c'ha questo 0 nei gol fatti perché ragazzi è clamoroso prende buone valutazioni ha fatto ben 8 assist che sono tantissimi cioè un'ala offensiva di solito fa così tanti assist lui è diciamo sulla linea del centrocampo perché gioca in un 3,52 però effettivamente ragazzi non ha la possibilità mai di trovare il gol forse in alcuni casi ci è andato un po' vicino però essendo appunto un esterno di centrocampo è più relegato a mettere palloni in aria pericolosi per i compagni io penso che un gol prima che finisca questa stagione lo possa magari fare e essendo contro il Chievo già retrocesso magari qualche chance gli verrà concessa l'ho voluta anche la battuta cioè la rima comunque penso appunto che Lazzari un gol in queste ultime quattro giornate lo potrà fare chissà che non sia appunto contro il Chievo ovviamente ragazzi non è semplice perché come detto è in un ruolo un po' distante dalla porta ma nel calcio tutto è possibile vedremo poi passiamo ai nomi invece sicuri quelli abbastanza probabili come primo nome però è inserito Piontek un giocatore che è partito a bomba questo campionato segnava in maniera consecutiva però bisogna dire che ultimamente soprattutto anche a causa di un Milan non brillante a livello offensivo anche in termini di manovra ecco in termini di gioco sta soffrendo un po' l'ultima giornata è stata la 31esima dove ha segnato diciamo anche le valutazioni ultimamente non sono state positive nell'ultima era in panchina quindi è subentrato i fatti allenatori ci sono rimasti malissimo adesso è contro il Bologna il Milan ha fatto anche un ritiro punitivo quindi saranno abbastanza carichi quindi correranno presumo molto di più del solito e questo potrebbe anche agevolare Piontek nel avere delle chance un po' migliori delle ultime partite quindi potrebbe trovare più facilmente il più 3 questo è il mio pronostico ne potrebbe anche segnare più di uno anche se come abbiamo visto ultimamente il Bologna non è assolutamente facile da abbattere però ragazzi chissà secondo me ci può stare Piontek il fiuto del gol ce l'ha quindi l'ho voluto inserire nei marcatori sicuri visto anche il match sulla carta abbordabile ma non semplicissimo poi per quanto riguarda invece un altro nome interessante ho inserito Politano ragazzi quindi non una punta ma una offensiva perché è un giocatore che è sempre abbastanza pericoloso nell'Inter si muove molto è abbastanza agile e mette sempre in difficoltà diciamo i terzini avversari ora di solito lui cosa fa si accentra mette i palloni in aria per appunto Icardi o Martinez dipende chi sarà l'appunto oppure nel secondo palo per un inserimento magari di Peric ecco non so perché ho buone sensazioni su di lui non solo in termini di assist ma anche di più 3 l'ultimo gol è stato la 27esima giornata ne ha fatti 4 in questa stagione potrebbe secondo me ritornare al gol proprio in questo match nell'ultima giornata ragazzi gli hanno dato un assist cioè l'assist di Politano nell'ultima giornata mi ha fatto perdere perché il mio avversario con l'assist di Politano ha preso 66 ma che assist era ragazzi un pallone messo in aria Nainggolan tira un bolide al volo e trova il gol ma un po' un po' un po' strano come assist ha segnato penso che invece in questo match ci metterà effettivamente proprio del suo anche magari in termini di più 3 vedremo se sarà così poi altro nome sicuro che ho inserito è Milik la scorsa giornata se non sbaglia avevo messo proprio Mertens perché avevo buone diciamo aspettative su di lui che era abbastanza in forma in teoria si può reinserire perché effettivamente lo è ancora però ho voluto ammettere invece Milik perché non segna dalla 32esima giornata l'avversario è il Cagliari che è ormai praticamente salvo quindi penso che il Napoli avrà diverse chance da gol Milik potrebbe non solo segnare su azione ma anche su punizione la scorsa giornata appunto l'ha segnata a Mertens l'ha calciata lui chissà che questa volta non sarà Milik a tirarla e a metterla dentro magari potrebbe segnare anche su azione potrebbe anche fare più di un gol perché no può essere assolutamente tra l'altro si sta avvicinando a quota 20 gol senza calci di rigore ragazzi questo è molto importante sottolinearlo quindi attenzione complimenti a Milik a chi l'ha preso al Fanta Calcio però vedremo se effettivamente in questa giornata porterà almeno un più 3 passiamo ai nomi ex invece qui ragazzi non è stato semplicissimo a parte un nome che ho messo proprio immediatamente ed è El Sharawi non so perché ma ho buonissime sensazioni su di lui è già arrivato in doppia cifra in questo campionato quindi non è una brutta scelta averlo preso al Fanta Calcio l'unica difficoltà forse era il quando schierarlo quindi indovinare appunto quando metterlo nella propria formazione titolare però ragazzi bisogna dire che il Genua è un avversario appunto dove El Sharawi ha già giocato e che qualche occasione te la può concedere anche a Marassi perché a Marassi in genere vengono partite abbastanza vivaci ecco ho involuto inserire El Sharawi proprio perché mi aspetto una Roma a rembande la prossima partita sarà come detto anche nel video dei Fanta Consigli se non l'avete visto andato a vedere l'ho scaricato appunto ieri penso che la Roma dovrà approfittare di questo match per portare a casa 3 punti per questa battaglia per la Champions League o comunque per l'Europa quindi penso che El Sharawi avrà diverse chance per mettersi in mostra o in termini di assist o comunque di più 3 vedremo se indovinerò questo marcatore poi l'altro ex invece non sono tanto convinto che possa segnare è Pavoletti quindi perché tutto dipende dall'atteggiamento che avrà il Cagliari cioè se arrivano effettivamente se dovessero arrivare lì a fare una scampagnata capite bene che Pavoletti potrebbe passeggiare per il campo perché gli arriverebbero pochi palloni quindi dipende ragazzi ha già segnato 12 gol comunque il suo quest'anno l'ha fatto così come ha fatto il suo il Cagliari ormai praticamente quasi salvo quindi vedremo l'ultima giornata è stata la 32esima però come detto se il Cagliari dovesse invece giocare concentrato e provare a far male al Napoli anche in contropiede non per forza la sua azione Pavoletti comunque è sempre pericoloso ma anche su un calcio d'angolo può svettare altissimo e metterla dentro quindi assolutamente tra gli ex di questa giornata era quello che comunque ci poteva anche stare non ha giocato tantissimo al Napoli ha fatto una piccola e brutta esperienza al Napoli perché non ha avuto molto spazio però ragazzi è comunque un ex detto questo ragazzi io vi auguro buona fortuna sia per il fantacalcio che per eventuali vostre schedine sono curioso di leggere anche i nomi un po' strani qua sotto per quanto riguarda la live di giornata visto che la giornata inizia stasera alle 20 e 30 e io intorno alle 19 avrò un impegno se riesco ragazzi se dovesse riuscire a tornare in tempo intorno alle 19 e 30 massimo le 20 proverò a fare una mini live anche di un quarto d'ora 20 minuti per provare a rispondere a più persone possibili e quindi darvi un po' di consigli sui vostri ballottaggi quindi proverò a farcela voi comunque restate sintonizzati attraviate la campanella nell'iscrizione in modo tale che vi arrivi subito la notifica ok quindi ci vediamo in caso più tardi buona fortuna ragazzi ciao a tutti ciao a tutti